Remo, sicuramente ci state mettendo giù una programmazione importante e quindi è giusto che le basi si facciano prima? Sì, penso di sì. Penso che in questo senso la società, come vi aveva pronosticato quando ci siamo incontrati perché io dovevo venire qui, mi aveva parlato che nell'arco di un anno voleva veramente mettere delle figure importanti dentro la società. Già la conferma di Pietro che è venuto come direttore organizzativo e la conferma tuttora di Alessandro Bacci porta a questa cosa che la società ha mantenuto le promesse. L'impresa con te e Alessandro è perfetta, vi siete riconosciuti all'Arezzo e sicuramente anche lì avete fatto un ottimo lavoro. Sì, credo anch'io che l'ottimo lavoro sia fatto, però Alessandro è un ragazzo molto positivo e lo ammiro da questo punto di vista perché ha professionalità, competitività, non ho dubbi che facciamo bene come abbiamo fatto. E come ha detto il Presidente in conferenza stampa, adesso è al lavoro perché abbiamo voglia di crescere. Per forza, per forza, avanti.